Oggi intanto abbiamo adottato tre provvedimenti e tre riparti molto importanti che andranno in sede di conferenza unificata e Stato-Regioni. Da un lato, e ringrazio il Ministro Poletti per il lavoro che ha svolto con il suo Ministero, quasi 300 milioni di euro che Regioni e Comuni avranno dal cosiddetto Fondo per la lotta alla povertà. Quindi con oggi chiudiamo un capitolo che è quello che vedrà riversato sul territorio importanti risorse che prima non c'erano, che serviranno proprio per le persone che hanno più bisogno di altre. Il secondo sono i 20 milioni complessivi sul tema della lotta alla violenza sulle donne per i centri antiviolenza e anche qui ringrazio il Sottosegretario Boschi perché si è fatto un grande lavoro che oggi trova anche qui un compimento e da ultimo, ma non ultimo, di oltre 150 milioni sul tema del FUS, sul tema della cultura, dello spettacolo perché anche in questo caso avevamo detto che avremmo voluto entro l'estate arrivare a determinare il riparto e devo dire, coerentemente con l'impegno che stiamo mettendo di questi tempi, siamo riusciti a ottenerlo. Quindi oggi, se fate una somma complessiva, sono quasi mezzo miliardo di euro che viene ripartito su tre capitoli molto importanti, seppur molto differenti tra loro, sul riparto a favore della regione e dei territori.